Coraggiose, spericolate, incoscienti. Benvenuti a RTV, la tv della realtà. Anche oggi inizieremo con un filmato davvero emozionante, un record in diretta. Un record? Non vorrei mica dirmi che hai imparato le equazioni. Dicono che per far passare il singhiozzo esistono tre metodi. Uno, trattenere il respiro per trenta secondi. Due, bere succo di limone. Un calendario di nudo o quasi nudo, tutte noi diciamo più o meno le stesse cose. Sono foto artistiche. L'ho fatto per i miei fans. E' profonda. E per qualcuno può essere addirittura incontrollabile. Fantasia in movimento nelle tre dimensioni. Sembra la definizione di ologramma. E faranno gli sceneggiatori immaginare situazioni così demenziali. Io ho rivisto due nostri filmati e ho capito che per scrivere quelle scene si ispirano alla realtà, che molto spesso supera la fantasia. Un po' come RTV. Tutto vero, ma a volte quasi un vero simile. Sui Monti Tatra non si canta ma si latra. Un gruppo di snowboarder è andato lì a vedere se è davvero un posto da cani. Essere al centro dell'attenzione, dentro ad uno stadio pieno di gente che ti osserva. Sentire la folla che ti incita. Lottare davanti a tutti per la... Da oggi potrete vedere i nostri filmati in qualsiasi momenti. È disponibile su www.fivestore.it Lunedì prossimo saremo ancora qui. Ciao! E ora, mai dire grande fratello!